Ciao ragazze, questo è il swap più ordine da Veronica Fata, che domenica ci incontreremo e quindi potrò ringraziarla ancora meglio. Allora, qui dentro nel pacco c'è due pacchi, allora se non sbaglio questo qui è l'ordine e questo è lo swap, non lo so, vabbè io ne aprirò uno, intanto guardate come sono belli questi stickers con i panda, cioè sono veramente un amore. Allora apriamo questo grande, mi sa che questo è lo swap, allora dopo, prima apriamo l'ordine. Allora, ok, allora c'era questa, allora, te li potete acquistare a singola lotto, io invece li ho comprati tutti insieme e li ho pagati 8 euro, allora intanto qui c'è la fogliolina del panda che si è staccata, gliela rimettiamo, allora prima c'era questa rondella con tutte le cane, le mie prime cane con tutti i fiorellini, che sono veramente belline, mi faranno molto comodo, perché anche perché non le ho mai usate. Poi il motivo principale per cui ho acquistato questo lotto è questo, questi due bellissimi portachiavi, sì, portachiavi nei libri, che sono veramente grandi, poi sono belli e poi io amo leggere, quindi sono perfetti, poi questi distanziatori, queste perline qui, piccoline piccoline, molto molto belline, poi chiodini a O sul bronzo, questi bellissimi cupcake in resina che sono veramente bellissimi, poi i coltellini, i charm a coltello, guardate che carini, questi qui che sono le chiusure per, se non sbaglio, l'alcantara, non so sinceramente come potrò utilizzarli, amore non traballare troppo con la telecamera, se no si vede, poi questi charm a prebottiglia che sono troppo bellini, cioè guardateli, sono favolosi, poi questi che sono veramente carini, sono dei cammèo però sono bucati dietro, cioè questi e questi sono ufficialmente i miei primi cammèi, non li ho mai avuti, sono troppo troppo carini, questi sono quadrati, sono sul bronzo, semplici, poi queste coppette che sono fatte, troppo belline, ora ve le faccio vedere meglio, se mi riesco a prendere, eccola qui, sono proprio belline, proprio belle, ok, e poi queste perle col foro molto largo, non so se si questi charm a farfalla, vorrei appena metto a fuoco, ok, eccoli qua, molto carini, e delle monachelle oro, e qua mi sa che c'è un omaggino, ah no, mi sa che, ah no, erano le basi per collane, già me ne ero dimenticata, queste sono bellissime perché sono basi già montate, così, aspettate, che ora vi faccio vedere, ok, vediamo se mi riesce a dividere, perché dovrebbero essere 5, sono fatte così, molto belle, con 3 fili, no, 4 fili bianchi e uno di organza, cioè, sono bellissime, sono veramente bellissime, e solo mi sembra 5, mi sembra 5, sì, ok, questo è l'ordine che ho fatto, e ora passiamo allo swap, questa è la che è questo, oh mio dio, oh mio dio, le super chicche, ah, ok, questo se non sbaglio era nell'ordine, eh sì, questo l'ho preso sempre in ordine, no, è mio questo, è mio, non me lo la macchina, no, è stato, come si può dire, rubato, dal mio marito, ha deciso che è suo, lo metterà alle chiavi della macchina, allora questo è il bigliettino da visita, eccolo qui, e cominciamo con questi pacchettini, allora, le tue creazioni, no, per le tue creazioni, qui, allora, vediamo un po', belline le boccettine, guardate che belle, sono queste tre boccettine, che tra l'altro si possono riutilizzare, con questi brillantini grandi a forma, cioè, sono grandi, sono fatti a tipo rombetti, ora non mette a fuoco, io non lo mette a fuoco, ma perché bisbilli, non mette a fuoco, bisogna, no, amore, non ho messo i scatti di rabbia, vabbè, quando metterà a fuoco, smettila, dov'è mio, perché c'è il mio rilakkuma, ok, vabbè, sono comunque tre boccette con queste due, sono con dei brillantini un po' più grandi, arancioni azzurri, e questo con le micro perle viola, allora, per le tue creazioni, vediamo un po', c'è questo bellissimo mix, un gufo, è un gufo bellissimo, questo mix di charm, non so se adesso mette a fuoco, no, non mi sembra, ok, vediamo se riesco a farvi vedere, eccole qua le boccette, questi bellissimi charm, questo è a forma di gufo, di stile sbrellucicose, e altri due cagnolini, sono veramente bellini, poi, per scrivere, ok, apriamola, oh, bellino, questa è la penna, guardate, cazzo, sembra un rossetto, invece è una penna, vediamo se si scrive, poi è blu, molto molto carina, poi, scrivici, e io ci scriverò, vediamo un po', no, ma è favoloso, ma guardate buco, allora qua c'è, mi sa che stava il picciolino della mela, questo, questo è quel memo pad, quella specie di blocco che sta così, ed è una mela, e questo starebbe qua, aspettate, vediamo se mi riesce, dovrebbe stare tipo così, con questo che lo blocca, ma lo vedete quanto è carino, sembra una mela, cioè è una mela, guardate buffo, questo lo lascio qui così, troppo bellino, poi, cancella pure, oh, bellina, è una gommina, a forma di danocchio gialla, questa è perfetta perché va dentro le matite, quindi, non so già dove metterla, creazioni, vediamo allora, oh, ma che carino questo decotepe con i funghetti, là c'è questo bellissimo anello con la zampina del gatto, giustamente, si fanno impazzire gatti, quindi ci vuole l'anello con la zampina, ma guardate che carino, guardate bello proprio l'anello, guardate bellino, ora c'è troppo di anello, aspettate, è bellissimo, questo rimane da qui, poi un altro bigliettino da visita, con mamma e goma, e poi c'è un foam strap a nuvoletta, oh, ma guardate bellino, allora, partiamo dal principio, allora, questo foam strap a nuvoletta, che è veramente carinissima, e poi questo granchietto tutto sbrilluccicoso, ma guardatelo, ma è sbrilluccicosissimo, ma poi è leggero, è veramente bellino, ok, ma che carino, andiamo avanti, questo, non c'è scritto niente, ma si può ben intuire, amore, ma questo è per te, è per te, c'è i dinosauri, questa, ecco, niente, l'apisco dinosauri è stato bello e prenotato, quindi pazienza, allora, kawaii, ecco, amore, allora, per te la sua bimba, ma non dovevi, ah, bimbi, no, il portachiavi di goccio, questo è delle merendine, poi c'è, questo con, no, mi sto caricando la batteria, devo fare veloce, questo portachiavi qui con l'insetto diabolico, guardate che bello questo portachiavi con la scarpa, è bellissimo, poi c'è, aprilo in privato, ok, kawaii, aiuto, aiuto, si spende, si spende, no, guardate che carino, è di chieditori, è un amore, è bellissimo, e dietro effetto è trasparente, questo è bellissimo, mi devo muovere, mi devo muovere, mi devo muovere, kawaii, guardate bellino, è questo astuccino di lascia con il cupcake e la bambolina, cioè è troppo bellino, tutto scritto in cinese, ovviamente, allora ragazzi, questo è lo swap e l'ordine, tutto lo metto qui, è un gran macello, e dai, amore mio, quello, e va bene, è suo, c'è anche l'apisa dinosauro, eccolo, l'ho riconquistato, l'apisa dinosauro che si è messo in tasca, così nemmeno io non posso riprenderglielo, Veronica, ti devo comprare un altro di Rilakkuma peluche perché io non ce l'ho più, allora, grazie per tutto quanto, ti mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!